Stuart gli sgama sulla testa e Z rimane per terra, io qua ho detto cazzo si è rotto un braccio e è finita Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale, siamo di nuovo qua, Startpad, St. Louis, Supercross 12esima prova, l'abbiamo appena guardato Sì, eravamo super poco organizzati, lollo, cos'è stato questa serata pazza qua? Ragazzi, cosa assolutamente fondamentale prima di iniziare a guardare il video, se no ci incazziamo questo giro Perché ho guardato le analytics, più del 60% delle persone che guardano i nostri video non è iscritta al canale Mi sembra, dai fateci questo piccolo favore, un tasto iscriviti, poi se mai mettete anche mi piace al video, tanto sono vicini Campanella se non volete perdere neanche uno e condividete con i vostri amici se il video vi piacerà o vi è piaciuto, i prossimi, i scorsi Scrivetevi, fondamentale Guardate il video adesso dai Intanto, ultimo Triple Crown della stagione, quindi tra gare da 12 minuti più in un giro Tra i maes ti possono confusionare drasticamente il risultato di fine giornata Cioè puoi essere anche più veloce in pista, ma basta una maes per mandare tutto a ramengo, no? Scrive il davanti, ti centra Ho premiato il campionato Triple Crown, titolo del cazzo diciamolo, potrebbero anche non farlo ma lo fanno Parliamo un attimo del tracciato, il tracciato Lollo, bello Eh, St. Louis, St. Louis come tutta questa fila di stadi che vengono dalla decima alla dodicesima prova Piccoli, chiusi, chiusi, avanti e indietro, sezioni belle e strette Ha creato un sacco di bagarre secondo me, sia nella due e mezzo che nella quattro e mezzo Si lamentavano infatti gli americani dei tracciati con una barra due bowl corner, li chiamano Quelli a 180 gradi, quindi le curve a tornare indietro in pratica Questo ce l'aveva, ne aveva tre o quattro anche Questo però crea quelle bagarre che possono piacere al pubblico, dei piloti sicuramente un pochino meno Però insomma Terreno comunque ha agevolato una gara di supercross, perché è un terreno standard Morbidino, semmai leggermente morbido, ma comunque compatto, quindi Interessante, una cosa che non si vede mai, il doppio dell'arrivo, curava una paletto Cioè, quando tu in supercross hai visto la cura a paletto, quasi mai Perché dietro c'era una mezza sponda, mezza cosa Quasi mai, a paletto, pista spianata prima della manche La canala partiva e andava fino quasi alla fine della rampa All'uscita della rampa, lo pensa alla chiusita davanti se ti succede lì? No Non può succedere lì? No Non può assolutamente succedere Devi andare esterno e incrociare tipo sexton Andiamo a vedere le gare Dai Stiamo sempre con la 250, qui vedete lo stadio, stadio coperto Vai Kitchen, ancora di nuovo quattro, bella rossa Questa benissimo sul cava, lo ripetiamo anche in questo video, ma vai ragazzi È bello, bello, bello Poi Kitchen c'è una bella guida Gara 1 del Triple Crown, parte in testa Jojo Boomer Che è un quarto forte e potrebbe essere un'arma vincente per la 250 nei prossimi anni Kitchen comunque dopo la prima sezione ritmica passa in testa Una piccola indecisione qua nell'uscita della sponda per andare sul triplo E Jojo Boomer lo ripassa Insomma non si fa intimidire No, assolutamente, per essere la prima stagione Si vede un buco Per essere un rookie, tanta roba Kitchen mi ricorda un pochino Cinciarulo Il vecchio Cinciarulo Quello col due e mezzo che andava forte Il vecchio Cinciarulo Qua entra sulle wops forte Ha impennato anche il dosso prima Ha fatto la curva, ha impennato al dosso Sfrutta il 250 al massimo Vi vediamo tutti in fila Jojo Boomer, Shimoda, Thresher e Smith Shimoda che vediamo che però inizia a prenderci un po' la mano con la moto Si vede un po' la mano con il campionato Era partito un po' così Adesso sembra di aver preso un po' il ritmo Quello che serve, ecco, insomma Tripli con bandiere gialle e Marshall dentro la pista Beh, lì non ho ancora capito Cioè, quando è che posso saltare e quando non posso saltare Loro possono saltare sempre A parte con la bandiera con la croce Quindi la bandiera gialla è più per dire Occhio Ok, stai attento Però se vuoi fare il triplo a 30 metri Puoi farlo Interessante molto la bagarre creata dietro I due piloti Yamaha, Star Racing Thresher e Smith E Smith Che vanno a dar fastidio un po' a Bomair Sì, in queste due curve Bomair si prende due attacchi prima di Thresher E poi di Smith Che entrano belli cattivi E poi viene anche Verrà anche sopravanzato da Il veterano RJ Hampshire Kitchin vince completamente indisturbato Questa gara 1 Con Shimoda secondo e Thresher terzo Gara 2 Un'altra partenza lì davanti di Kitchin La sua Kawasaki funziona Sì Rider D Rider D Francesco all'interno Rider D Francesco Tra l'altro altro rookie Che speriamo che negli prossimi anni Venga fuori col Gas Gas in questo caso Tribola eh È partito davanti Però ha tribolato Non è Era partito bene in tutta stagione? Non troppo fisicato Almeno dai video su Instagram E dalle cose che scorno Poco petto Poco petto Ok Dovrebbe fare più panca piana Panca piana E basta E basta Solo panca piana Ok Ok quindi Cioè dovrebbe sfondare il muro Dalmeno dei 120 Sì Sul panca piana 10 colpi a 120 RJ Hampshire Che anche qua parte male Un pochino appannato Qui fa un bel passaggio direi Un bel incrocio di linee Per entrare su Thresher Bello che entrano Saltando dentro la prima Whoops Ormai hanno un feeling Eh le fanno così E una volta Se le saltavi Eri Uno scarto della società Dipende Il 2006 E con Stewart così E saltavano già no? Poi era smesso completamente E dopo 2000 Da quando ha iniziato Reed Con il Suzuki 4 e mezzo A vincere Finito Battevano e basta Adesso saltano Secondo main Vince di nuovo Levi Kitchen In contrastato Vediamo un arrivo in volata Per la seconda posizione Tra Sì Tra RJ Hampshire E Joshimoda Emshire che È entrato stretto Molto stretto Come dicevano La cura paletto A inizio gara Molto stretto Fortuna Ha provato Sorpasso Ho provato Joshimoda Si è cavato dai coglioni Abbastanza in fretta Colpo di frizione via Levi Kitchen Se parte in testa Anche quest'ultima manche Con un rischio Con Shimoda Staccatone Allungata con Shimoda Baumer Sempre lì davanti In seconda posizione In questo momento Perché Shimoda Allarga un attimino Che brutti I numeri così alti Metti il 92 929 Il suo numero È il 29 Quando correva Nei amatori Adesso Amatori Poi Se l'amatore È quel livello lì È un bel amatore Ecco io a questo punto Pensavo che Levi Kitchen Fosse un pochino Tampinato Da RJ Hampshire Ma Perché dici Partito bene Lo vedo lì davanti No Non ha rivali In questo momento In piena esultanza Direi Questa gara Non è Non è successo tanto No Lui molto casato Molto molto casato Beh 1-1-1 Tra l'altro Viene da un main event Vinto il weekend scorso Quindi sono a 4 main event In stack Praticamente Comunque non devi sbagliare Niente Partenza Non si deve mai chiudere Una voce al davanti Non devi fare Nessun tipo Tipo di errore Classifica finale Levi Kitchen Con la tabella rossa Che continua a vincere In preterito Josh Mota Secondo Enesimo podio 2-3-3 Partito evitato Il fra Perché poteva Guardando le ultime tre gare Ha fatto tre podi Poteva essere un contendente Al titolo Invece 30 punti dietro Campionato Con Levi Kitchen In primo RJ Hampshire Secondo A meno 15 E Jordan Smith Terzo A meno 26 Direi che Tutti gli altri Insomma Sono un pochino fuori dai giochi Sì Anche Jordan Smith Perché ormai Ha una gara di Svantaggio 26 punti Valendo la mancia Del supercross RJ Hampshire 15 punti Con un Levi Kitchen Così in forma È difficile Da recuperarli Deve succedere qualcosa di grosso No? Un problema anche con la moto Una caduta che rompe Un pezzo della moto Ma il motocross È sempre riservato sorprese Quindi vedremo 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 La prossima gara Via la sui kart Per le Levi Kitchen In partenza Gara 1 del Triple Crown Parte in testa Il fratello che non ti aspetti Hunter Lawrence Tra l'altro completo figoso Come il weekend scorso Quello star racing Qui Oldenburg decide Di fare un corto Cioè non è che decide Forse Forse Secondo me Sperava di no Gli è venuto Non era nelle opzioni Diciamo Non era nelle opzioni Ha fatto Tra l'altro un bel corto Assolutamente Un bel corto Che ha creato Un po' di scompiglio Sì Direi che nel complesso È andata bene Qui Cinciarulo Gli atterra di fianco In pratica Mette male un piede Si pianta un pochino E prende una stiramenta Di muscoli dell'anca Continua Non meglio specificato Continua però Nella fascia negativa Sì L'hanno intervistato Ha detto Vabbè c'è una settimana Di pausa Forse riesco a tornare Sexton Va per terra Qui Con la sua KTM E Roxen Lo vediamo lì In mezzo al mucchio Che fa cose In fase circense È giù dalla moto Sta cercando di non farla spegnere E sta cercando di non farla spegnere Ci è riuscito Perché ha fatto due passi Poi è rimontato sopra la moto Un pochino di Cowboy riding E via Qui si vede benissimo Cinciarulo Che mette giù il piede male Qua Prende una Una stirata Un qualcosa E anche E anche Roxen Lì in mezzo Dietro a Jet Che Jet rimane piantato Roxen giù dalla moto Da due zampettate E via Nel punto della pista E nelle fasi anziali della gara Poteva succedere Molto di peggio È andato nel complesso Tutto bene Nessuno si è fatto male Realmente E Stuart Lo vediamo qui Che passa Illeso Illeso Hunter Lawrence Che sembra Tenere forte Il gruppo di testa Ma cade Subito Nei primi giri Era parito forte C'è chiuso davanti Un po' Un'imbarcata sulle whoops Perde tante posizioni Perde Tra l'altro Non posso portarlo Lui si spacca la caviglia Guardalo Problemi Problemi per il suzzocone di Roxen Non l'abbiamo mai visto fumare In questo modo Diciamo Diciamo che forse Una botta In mezzo al mucchio Potrebbe essere Si ha compromesso Un pochino il radiatore O qualcosa di simile Probabilmente Molto surriscaldata Che fuma Ma non penso Che questo corto Sia stato per la moto Perché Arriva molto impaccato Arriva Ci sono delle canali Sulla lampa Come possiamo vedere Arriva molto impaccato E in questo triplo qua Fa corto Tra l'altro Con una correzione No ha perso le gambe Vecchio Con una correzione In volo Da fuori di testa Perde le gambe Riesce a dare Uno strattone al manubrio E riportarsi E riagganciare la moto Scena 2017 Honda HRC Questa qua Triplo simile canale Quando l'ho visto Ho detto No basta Basta Bello pronto Il nostro tedesco preferito Mamma mia E la salva Ma poi È stata una disfatta Perché ha perso posizioni Perso posizioni Si è cagato forse Forse si è cagato Misto alla moto Che fumava Ha detto Molto bene Invece Jet Lawrence Che lo vedeva Un partito non tanto bene Un ritmo Come sappiamo Ormai Non c'è nulla da dire Velocissimo Jet passa Incrociando un pochino La traiettoria Plessinger ha fatto La coro fermo Non ho neanche provato Non ho visto il 18 passare E la gara fin era così Tomac Jet E Plessinger terzo Gara 2 E vediamo di nuovo Tomac in testa Ma questa volta Jet dall'interno Lo cuccia un pochino L'esterno Si prende la prima posizione Ma all'interno Nella prima sezione Passa Justin Cooper E si mette in testa Justin Cooper Com'è aver dietro Jet e Tomac Beh la pressione sicuramente È molto alta Non è al loro livello No non è al loro livello Leggermente sotto Però stando con loro Lo aiuterà sicuramente Qui Jet Mostra leggermente La tecnica Del motocross E mangia Un Justin Cooper Che sembra quasi fermo Quasi All'inizio Ha sbagliato in testa Sembra le prime Armi Quando passa Jet Arriva anche il capo Del team Yamaha Che dice Fatti na E lui non dice niente Dice va bene così Questa curva qua Dell'arrivo Che la facevano a paletto E Inganna Web Inganna drasticamente Direi Non sono abituato La forcella è dura Si pianta dentro Si pianta dentro Alla Alla balla Che c'è all'interno Con lo staffone Questa gara ragazzi Non lo fanno vedere Però io che l'ho vista Intera Andatela a vedere Perché è stata veramente Molto molto bella Perché Tomac ci ha provato In tutti i modi So va a Prendere Jet E a un certo punto Jet sbaglia Ok Non l'avevano inquadrato Però si sente il boato Del pubblico E secondo me Tomac gli era entrato Nel triplo Che poi curvi a sinistra E fai la sezione ritmica Ok Lì Probabilmente Gli era entrato Perché Si Jet sbaglia Si vede che sbaglia Fa il triplo Un po' Diciamo Duro Rigido Rigido Per portarlo alla fine Tomac screba Poi Escono nell'inquadratura Buato del pubblico Ci sono state cose Secondo me E Tomac L'ho visto Con uno scatto di orgoglio Cercare di prendere La prima posizione Lui è un po' Che dice che vuole fare Una gara insieme a Lorenz E' un po' Qui l'ha fatta Qui l'ha fatta finalmente Diciamo Ha preso una pagata Esagerata Perché dopo alla fine Ma Ma Non è real La pagata c'è Ma Non a Manche Cioè nel senso Al risultato della Manche No Qua succede il primo Disastro della serata Jet sotto bandiera scacchi Salta Ma c'è anche la bandiera Con la croce Rossa Come lui Saltano Tantissimi altri piloti Ad esempio Sexton Cooper Webb Se non sbaglio Anderson salta due volte Sì Sia il giro prima Che il giro dopo Polemiche esagerate Così Lieghiamo perché C'era la bandiera Allora la bandiera C'era perché Oldenburg Ha fatto il dente Del finish line Ok La moto probabilmente Gli è morta Gli è sospenta Ed era parcheggiato Lui sotto Ok Sotto 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 al finish line In pratica La direzione gara Non ha riportato sicura Questa situazione E ha messo fuori La bandiera con la croce Non si può saltare La pena Nel triple crown È la decurtazione Di due posizioni Anderson Ci è passato due volte Quattro posizioni Molti hanno criticato Jet Se guardiamo il video Lui fa la curva di due all'ora Che scopo aveva no? Saltare Cioè Se l'avesse vista Cioè un conto mi dici Quelli dietro Hanno saltato Erano un po' imbagarrati Quelli dietro no? Davvero non la vedi Magari la vedi l'ultimo Perché sei in bagarre Ok Ma lì vuol dire Che la bandiera Era nel posto sbagliato O agitata Nella maniera sbagliata Perché era ferma Talmente tanti piloti Hanno saltato Che dici Cazzo Poi Jet Ha voltato due Allora ha voltato Cioè Che guadagna aveva Sul salto dell'arrivo Primo All'ultimo giro Bandiera con la croce Oh No ma c'è È follia no? Non l'ha vista Non l'ha vista Non si è mica vista La legge è questa ragazzi Quindi Probabilmente O che non lo sapeva O che non ha visto la bandiera Ha saltato lo stesso Decurtazioni Di due posizioni Quindi il main event Non va A un Jet Lawrence Ma All'Aitomac All'Aitomac Che Quindi è il secondo In questa serata direi Con Hunter Lawrence Che si vede proiettato In Seconda posizione Ha aperto gli occhi Sono saltato Gara 3 Partenza A cannone Per l'Aitomac Che Fin da subito Decide di prendere La prima posizione Subito da un Sexton E un Cooper Webb Molto bene anche Hunter Lawrence In questo caso In quarta posizione Qui Tutto quello Di cui abbiamo discusso In questo ultimo weekend Barsha Entra Freeze Cercando il contatto Su Freeze ovviamente Cercando il contatto Si vede Piano piano Combinato a Jet Che Fa una traiettoria Secondo me Che in gruppo Cioè Folle È come dire Ragazzi Datemi la mutata È un suicidio Non è Però si È un po' Un suicidio Perché Quelle sponde lì Come fanno loro Che chiudono così Cioè per un momento Sei quasi in contromano Cioè lui Se Se lo guardiamo Nello spazio Spacchiamo la curva a metà È contromano Sì è quasi contromano Sì è una curva Sicuramente sconsiderata Sicuramente non ci ha pensato Era già Il focus Probabilmente era già davanti Era suo fratello Era suo fratello E gira Si accorgi subito Della situazione È contromano Lo guardo È contromano Cioè è dritto Cioè Sì Diciamo Barsha esagerato Barsha faceva con meno Barsha ha chiuso tanto Perché dietro aveva Freeze Si è cagato adesso anche Barsha Cioè Ha detto qua prendere la legnata Mi faccio male anch'io eh Zed però pronto Perché toglie la gamba È andata bene Toglie la gamba Perché se lo centra su un ginocchio così Scoppia Gli esploda un ginocchio Fin la carriera per Zed E La centrata c'è stata tutta Barsha si vede che non era bello contento Della situazione Cioè ha detto Ragazzi Steward sgomma sulla testa Guarda Cosa Cosa ci posso fare Steward gli sgomma sulla testa E Zed rimane per terra Io qua ho detto cazzo Si è rotto un braccio E' finita In realtà Riprende la moto E finisce il main Finisce dolorante Ha detto che si Aveva perso la sensibilità Probabilmente Un grosso colpo al gomito Gli ha fatto Gli ha preso un nervo dice E ha perso un grosso emattomo Come quando ti giravi a scuola E prenevi contro la sedia E saltava l'imprecazione Sta bene Direi loro no Queste sono quelle cose che Cioè ricordiamoci Che per una cosa così James Steward Ha finito la carriera Cioè ha finito la carriera Ha finito no Vabbè Dungey l'ha spento eh Steward Beh La situazione è molto simile Era simile Però Dungey l'ha spento completamente Sì la situazione però è la stessa Quindi Anche il nostro titolo Era un pochino Clickbait Della copertina Naturalmente Fatta da The Everace Designer Non più Speedy Visual Ma è la stessa persona Ragazzi è sempre Christian Che ringraziamo Stavo dicendo La copertina Abbiamo fatto un pochino Di clickbait Un pochino di Insulti contro Barsha Ma non è colpa solo Di un lato Gli entrambi in questo caso Un fosso si fa con due rive Jet ha fatto una traiettoria Completamente sconsiderata Da fare in gruppo Soprattutto in un pezzo di pista così E Barsha è entrato Bello cattivo Bello forte Bello interno Per proteggerti Per proteggersi Da Freeze Insomma Non è che era una bella situazione Comunque neanche Barsha Jet ha chiuso molto Se non avessi chiuso così tanto Prendeva una sillurata Esagerata allo stesso Era come era Era così Barsha Era in stoppi duro Non lo so Però Comunque Comunque Vediamo un jet Molto appannato Che gira un po' Giusto per dire Sto in moto Va bene Prendo un punticino Se lo posso prendere Sì Voleva fare delle ore Sì Ne fa poche Tomek completamente in controllo Forsella bella chiusa Per andare a curvare Sul piano Per Tomek E Passa E Vince questo Terzo Main event Portando a casa Un 1 2 Che poi è diventato 1 1 Quindi un triple 1 Un risultato molto molto importante Che pesa non a livello di classifica Ma pesa sul suo morale sicuramente Una cosa Andate a recuperarvi La curva che ha fatto Sexton Per passare Non mi ricordo chi In questo terzo main Che è entrato Qua Qua È entrato tutto bello esterno Ok Il pilota davanti È entrato interno L'ha raccordata Tutto in sliding Così Tutto aperto E l'ha passata all'interno Un crociatore esagerato Ha dato un'incrociata Che mi è piaciuta L'ho riguardata 6-7 volte Vediamo i chiarimenti a fine gara Di Sexton e Barsha Molto pacati De Sexton ciao Di Jett e Barsha Molto pacati direi Pacati Non hanno fatto botte Probabilmente Hanno capito entrambi Cosa è successo Un po' di esperienza A parte Jett Che ha avuto Conseguenze negative Facendo un po' di polemica Quindi Ha ormai imparato Bene Se prendi il casco a Barsha È un altro È un altro pilota Un'altra grana Un'altra grana Va bene così Va bene Forse è peggio Per Web festeggia La vittoria Il Triple Crown Che festezza Del campionato Triple Crown Giusto per mettere Niente un altro Niente Sì c'è questo campionato Come diciamo all'inizio gara All'inizio del video Della Triple Crown Lo vince Cooper Web Tre gare Cosa ha fatto la coppa lì? Perché ce l'ha lì? Cazzo sta facendo? Commentiamo Stamagato duro Commentiamo un pochino I risultati finali Con Tomac 1-1-1 Cooper Web Che la salva E prende comunque Un botto di punti I 22 punti Per il secondo posto Come dicevamo Vedete La classifica è molto Influenzata Dalle tre manche Con un quinto Un sesto Un secondo Riesce comunque Avendo preso Rispetto a Tomac Una rata gerata Porta però a casa Un secondo posto Che sono un botto di punti Tra l'altro Ci dicevate Non sarebbe meglio Che chi vince Tutte le tre manche O prenda 30 32 punti Sì Ci starebbe Un dicimo Su plus Sì Io lo farei Tra manche tanta roba In più 5 Il nostro Jet Lo vediamo Solo ottavo Bene per il fratello Terzo Invece primo podio Per lui Nella classe regina Quindi molto bene Malcolm Stewart Probabilmente Con quei risultati 7-9-8 Non è nemmeno caduto Una volta In tre main Molto molto bene Il campionato Ragazzuoli Si sta accorciando La classifica Perché Jet Webb E Sexton Sono in 20 punti Sexton Leggermente indietro Con Eli Tomach 29 Che non è esagerata Ci sono 5 gare Quindi non sono 14 Però Non vedo un problema Sexton Non vedo un problema Tomach Vedo un problema Enorme Su Cooper Webb Cooper Webb A meno 8 In 5 gare È quasi un problema Perché Vuol dire che Non vuoi fare Nei con un errore Adesso lui Il suo focus Di Cooper Webb È Cioè Sappiamo che Quando la situazione Si fa tesa Lui è lì Cioè non parte Decimo Con il dodicesimo No no Lui è lì Quindi è un problema Per Lawrence Nel senso Lawrence non può più Permettersi quasi un errore Almeno per 3-4 gare In stecca Ma secondo te Jet Ha un po' di pressione Andosso Per queste ultime gare Direi di no Direi che È abbastanza sereno Penso L'altra parte Proprio questa sua serenità È la parte pericolosa Perché è giovane No È un po' un attimo Che dica La prende un po' sotto gamba E non è più Il fare il due e mezzo Che uno parte decimo Uno dodicesimo E Soprattutto nelle ultime gare La mutata la prendi La mutata la prendi Cooper Webb Non sbaglia un cazzo Quindi La situazione è Molto delicata Secondo me La situazione è delicata Ma Ora Tocca le pagelle Assolutamente Andiamo al pagello Vincere il campionato Con questi risultati È fortemente improbabile Ed il tempo Sul due e mezzo Sta scadendo Erja Jampier Cinque e mezzo La tabella rossa È un po' come i pomodorini Sta bene su tutto Ma sul Cava Pro Circuit Ha Quel non so che di Esotico Lo chef Continua A fare impazzire il pubblico Kitchen 10 Nonostante abbia provato A buttare via tutto In gara 1 Cervello acceso E occhi aperti Gli spianano la strada Per il podio finale Mettendoci del suo In gara 3 Sia chiaro In crescita Costante Hunter Lawrence 9 Possiamo dirlo Questa Una serata no Per il numero 2 Che forse Ha esagerato con il fritto Durante la settimana Stando a Come impugnava il trofeo In tutto questo È comunque secondo Probabilmente Questa è la forza Di Web 8 È sempre al posto Sbagliato Nel momento Sbagliato E stavolta Forma una Pluripremiata Coppia Con il suo Compare Freeze Per mettere Il leader del campionato Un po' di MMA In questo supercross No Barsia 4,5 Il pubblico vorrebbe sempre Vedere la bandiera americana Al top della classifica E stasera È stato accontentato L'entrata su Jet Non è stata ripresa Ma C'è Stata Puro Orgoglio Per Tomac 9,5 Ah Gelle Finite Ultima Ultimo piccolo Resoconto Conclusioni Vinceremo Siano la campionata Jet Lawrence Speriamo Anche perché sarebbe Il Sarebbe il quinto Campionato in stecca In cui partecipa In cui vince Sarebbe un problema Anche per gli altri Più che per lui Che vince Sarebbe un problema Per lui non è un problema No no Più che andare al quinto Campionato in stecca Che per lui Potrebbe dire Beh forse il primo Di supercross 4,50 Ha un valore molto grosso La 2,5 Ci gasa tanto Questo Levi Kitchen Che è in testa Da ormai 4,5 gare C'è la tabella rossa Direi una crescita Esagerata per lui Cazzo Ha fatto veramente Tanto Il secondo anno Che fa supercross Il professionista Il secondo anno Da pro L'anno scorso Era star racing Quindi Con anche un cambio di moto Secondo me Si stanno un po' Fregando le mani Quelli di PC Kawasaki Pro Può essere Ovviamente Star racing Anche perché Pro circuit Ricordiamo È da qualche anno Che Mancano Di risultati Più che secondo me Negli prossimi anni Può venire fuori tanto Proprio tanto Lo vedremo nel national Anche il livello Da 4,5 Ha un bel fisico Anche la guida Ha una bella guida Un bel fisico E quindi Direi che per Oggi È tutto Di cosa ne abbiamo dette E vedremo di far uscire Qualche altro videozzo Questa settimana Se no ci vediamo Con il mondiale La prossima settimana Arriva la sarda Detto ciò Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti